Pesante sconfitta a Casalinga del Lama che viene superato 2-1 dal Castel del Piano e condannato così ai play-out. La partita si accende al nono minuto con una punizione sulla destra del Castel del Piano battuta sul primo palo, Lazzarini attento para. Al quattordicesimo è il Lama a portarsi in vantaggio. Sugli sviluppi di un fallo laterale dalla destra, palla crossata in aria e colpo di testa di Bartolucci che porta in vantaggio il Lama. Al ventesimo minuto ancora Lama pericoloso, Bucci ruba palla sulla destra e crossa per Bartolucci che incrocia di piatto, palla che fa la barba al palo e si spegne sul fondo. Al trentacinquesimo da segnalare l'infortunio del numero 9 del Castel del Piano Federici per una sospetta frattura del setto nasale. Al quarantaduesimo è il Castel del Piano che si fa vedere in avanti con un cross dalla destra per sacco che svetta di testa e conclude verso la porta. Lazzarini attento e blocca il pallone. Al quarantaquattresimo azione da Moviola. Su un cross lento dalla sinistra Bartolini appostato sul secondo palo colpisce di testa e la palla che batte sulla traversa. Poi rimbalzando in era di rigore si accende una mischia dove c'è un sospetto tocco di mano di un difensore del Castel del Piano. Al quarantasettesimo ancora il Lama vicino al raddoppio. Crossa dalla sinistra per Bartolini che controlla e conclude. La palla si spenge di poco sul fondo. Nella ripresa parte subito forte il Lama. Al secondo minuto Mambrini con una splendida apertura lancia Bucci sulla destra. Bucci crossa per Arcaleni che arriva alla conclusione scoordinato, svirgola il pallone e la palla si spenge alta. All'ottavo minuto ancora Lama in avanti con Bartolini che conclude dalla distanza la palla che scheggia la traversa e si spenge sul fondo. Al tredicesimo lancio di Mambrini per Bartolucci che si porta avanti il pallone di testa, entra in aria e conclude a botta sicura. Superlativa la risposta di Cocchini che si salva in calcio d'angolo. Un minuto più tardi Lama ancora vicino al gol. Si accende la mischia in aria di rigore dove Bartolucci e Bartolini provano a più riprese a concludere a rete. Grazie. 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 Il fatto che si sono infortunati due ragazzi, uno al naso e uno alla coscia, dunque siamo arrivati proprio sfiniti alla fine, sotto di 1-0, eravamo sfiniti e siamo riusciti a fare due gol. Questo è veramente un gioco pazzo, è il più bello del mondo. Il Lama ha avuto le sue 6-7 palle e gol, specialmente in contropiede, ma se non fai gol questo è un gioco che dopo è pericolosissimo. E' giusto che sia così, è giusto che abbiamo perso questa partita perché come hai detto te, crei 10 palle e gol, non tiriamo in porta anche perché molte volte siamo arrivati lì davanti e non tiriamo in porta. Quando tiriamo abbiamo bisogno anche due traverse, il portiere ha fatto qualche parata ma abbiamo sbagliato anche dei contropiedi, due contro uno, robe assurde e dopo chiaramente il calcio è questo, ma è giusto che sia così. Mi dispiace ma è giusto che non chiudo le partite in questa maglia dove oggi vincendo ci giocavamo alla salvezza e perlomeno una possibilità diretta di fare la salvezza diretta a Santa Maria, con la sua base, scusate. E' un peccato, purtroppo sono veramente rammaricato, un po' incavolato anche perché, ripeto, partite così, se le racconti probabilmente manco ci si crede. Ma come hai detto te abbiamo creato 10 palle e gol e purtroppo non avendo fatto gol e dopo per assoluto abbiamo perso ma niente purtroppo non so che dire.